Ancora di più, questa carica mi porterà ad aumentare il mio entusiasmo e il mio impegno per rappresentare degnamente un'associazione come la nostra che a livello nazionale ha la difficoltà di mettere in atto iniziative, azioni, ma anche momenti, fare sistema, fare rete con le altre regioni perché in molti casi ci accorgiamo che determinate, anche qui va precisato, noi siamo certo espressione sostanziale della Confederazione Italiana Agricoltore di rivendicazioni da fare nei confronti dell'istituto.